10 giugno 2021 Parco Bartini Cesano Boscone Milano attenzione a non ti fare male attenzione a non farti male baronetto si e oggi il baronetto non sta tanto bene stamattina prima di uscire ha vomitato la bile poco dopo la signorina qua anche lei ha vomitato la bile non so perché non so cosa ieri è nato la carne con la lonza verdure mi sembra strano che stanno così però vabbè dopo gli darò mentre lo germina niente ragazzi oggi è una giornata un po particolare oggi è il mio compleanno non vi dico quanti anni ho non mi interessa è un anno che invecchio quello sicuro beh comunque ragazzi vi dico una cosa non maltrattate gli animali e se vedete qualcuno che li maltratta denunciatele si ok fate qualcosa perché i cani sono come i bambini vanno curati e questo qui è il piccolo giugno che cerca le coccole dai ragazzi è stato bello ragazzi oggi il video è cortissimo vi auguro una buona giornata no vi dico quanti anni ho di ossia indovinate dai ragazzi ciao a tutti da scilla la principessa dato tutto 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 mascalzone saluta saluta tutto il mascalzone il baronetto 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 è il piccolo giugno eccolo qui bene ragazzi video corto ma un saluto lungo già ragazzi in gamba e sempre positivi ok ciao alla prossima ciao ragazzi a tutti ciao